Cos'è un eSIM? Embedded SIM, un numero telefonico incorporato, fornito a un dispositivo mobile compatibile e da un gestore che supporta le SIM. In altre parole, è un numero di telefono che viene fornito a uno smartphone che supporta tale tecnologia senza il supporto fisico della SIM. Gli ultimi iPhone 14 sono stati forniti in America senza il supporto fisico della SIM, quindi vengono gestiti solo tramite le SIM. Io ho un 11 Pro Max. Per inserire e configurare un numero telefonico con le SIM si va in Impostazioni, Cellulare, Aggiungi eSIM. Il vostro gestore che supporta le SIM vi fornirà un QR Code. Si clicca su QR Code, dovrete scannerizzare il QR Code, quindi acquisirete il numero di telefono e la tariffa telefonica che vi è stata predisposta tramite il numero eSIM. è come avere una SIM fisica all'interno del vostro cellulare.